L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Recita così l'articolo 11 della Costituzione italiana. Sono molti i paesi italiani che in queste ore stanno organizzando manifestazioni di solidarietà. Anche la Chiesa su invito di Papa Francesco si sta raccogliendo in preghiera. A Raquel la consulta giovanile ha organizzato una fiaccolata per la pace da Piazza Beltrano a Piazza San Sebastiano. È un piccolo gesto ma in realtà è un grande gesto perché dimostriamo di essere tutti fratelli e di essere tutti compatti come esseri umani e non come nazioni divise e popoli divisi. Quali associazioni hanno preso parte? Hanno preso parte praticamente tutte le associazioni di Racale e non solo, elencarle sarebbe troppo lungo, ma ci sono anche associazioni che vengono addirittura da Tricase, comunque dai paesi limitrofi. C'è stata grande partecipazione. Noi esporremo un cartello su cui cercheremo di sensibilizzare, ci sono i dati della Caritas, una raccolta fondi destinata alla Caritas italiana che è in contatto con le Caritas ucraine e romene per portare dei soldi, oltre che i viveri, alle popolazioni in difficoltà e che stanno uscendo dall'Ucraina.